Proseguono gli allenamenti dei giallorossi in vista della sfida interna che sabato sera vedrà opposti gli uomini di Misterler dal Melfi. Nella giornata di ieri Salentini hanno sostenuto una singola seduta mattutina al comunale di Squinsano. Capitamicoli e compagni sono stati impegnati in una serie di esercitazioni tattiche, conclusesi con una partitella finale. Sa si lotto alle prese con una distrazione femorale alla coscia destra, si è sottoposto a terapia mentre hanno lavorato indifferenziato di Inizio e D'Ambrosio. Oggi in programma una seduta a porte chiuse sempre a Squinsano.